80 anni di Ance, si inizia oggi con una serie di incontri che per tutto il 2023 celebreranno gli 80 anni dalla vostra Costituzione. Sì, iniziamo oggi una serie di eventi per festeggiare l'ottantesimo anno dalla Costituzione di Ance Palermo che è stata la prima associazione di costruttori in Italia a nascere nel dicembre del 43 e vogliamo casualmente fortunatamente cade questo evento importante durante la mia presidenza organizziamo una serie di eventi per pubblicizzare al massimo a livello istituzionale la nostra attività, chi rappresentiamo e tutto ciò che vogliamo proporre per la città e per il suo sviluppo sano e trasparente. Cerchiamo di essere i principali interlocutori istituzionali di tutti coloro che insieme a noi possono pianificare lo sviluppo della città, iniziamo oggi parlando di centro storico con l'assessore Carte e con i presidenti degli ordini e poi proseguiremo con altri eventi incontri sul codice dei contratti e su tutte quelle materie su cui la nostra associazione e le nostre imprese sono oggi davvero in prima linea. Oggi con gli addetti lavori architetti e ingegneri per disegnare la Palermo del futuro. Si nasce col professore Carte e con gli altri presidenti degli ordini di ingegneri architetti di Palermo questa sinergia strettissima forse per la prima volta per cercare di disegnare tutti insieme e di pianificare i nuovi strumenti di sviluppo della città che mettano edilizio urbanistico al centro con le nuove regole e con una concertazione che davvero ciascuno con le proprie competenze, rappresentanti i propri interessi, possano trovare una sintesi nel tavolo di concertazione con tutti. Questo è un tavolo che noi come amministrazione abbiamo accolto già da qualche mese quando ci è stato proposto e a tutti gli effetti è un tavolo a cui compartecipiamo. Riteniamo che per disegnare la città del futuro bisogna ragionare, sedersi, trovare soluzioni insieme poi agli soggetti che sono anche portatori di interessi legittimi e anche poi coloro che potranno aiutarci a disegnarla e ad attuarla, quindi gli ordini professionali, i tecnici e l'ancestesso. Oggi qui ragioneremo in particolare sul centro storico perché è venuto il tempo di cominciare ad avere un'idea nuova di centro storico. Qual è il ruolo del centro storico rispetto all'intera città? Nel 93 l'esigenza era salvarlo. Oggi l'esigenza è rimetterlo dentro una condizione complessiva di vivibilità. Significa anche forse abbassare alcune funzioni per distribuirle. Significa introdurre la possibilità che il recupero possa avvenire attraverso alcuni dispositivi di contemporaneità. Pensiamo a tutto il tema energetico, non può non stare nel centro storico o i servizi alla persona, alla cura, un nuovo tipo di mobilità. Allora è venuto il tempo di pianificare, progettare e poi anche realizzare un nuovo quartiere, o meglio, in maniera nuova, un quartiere molto antico, delicato, preziosissimo, ma con grandi potenzialità.